Tanto tempo fa c'era una valata e in questa valata vivevano tanti animali e vivevano tutti pacificamente insieme. In questa valata c'era un albero ed era un albero magico, era un albero immenso e si poteva vedere che era piena di frutti, frutti di ogni colore, di ogni misura, di ogni profumo, ma era un albero magico e nessun animale mai era riuscito a prendere neanche un frutto. Le scimmie avevano provate, la giraffa aveva provato, l'elefante aveva provato, gli uccelli avevano provato, ma l'albero era magico e non dava via i suoi frutti. Allora sapevano che sulla montagna ci viveva una strega e la strega conosceva la parola macica per l'albero macico. E allora ancora una volta gli animali tenevano consiglio, erano tutti radunati a tono il fuoco per decidere chi doveva andare alla strega per chiedere la parola macica per l'albero macico. E allora tutti gli animali parlavano tra di loro, vado io, no, no, tu non vai perché tanto non riesci a prendere la parola. Allora l'elefante disse, amici vado io, io sono grande ma soprattutto sono intelligente e con la mia intelligenza io riuscirò a prendere la parola macica. Allora gli animali dice ok dai 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 elefante vai 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 prendere la parola macica. Allora l'elefante iniziò a camminare tum 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 con i suoi passi molto lenti però andava. Arrivo sotto la montagna dopo un mese salì la montagna, ho dato due settimane e dopo un mese e mezzo finalmente arrivò alla casupla dove viveva la strega. E allora con la proboscide bussò alla porta, bum bum bum, e la porta si aprì. Strega sono elefante, vengo giù dalla valata e vengo in nome di tutti i miei amici perché vogliamo sapere la parola magica per l'albero magico. La strega disse, la parola magica? Vuoi la parola magica? Io te la darò perché tanto non te la ricorderai mai. La parola magica è ish caralà. Bum, chiuse la porta. E allora l'elefante disse, hai visto? Io con la mia intelligenza, la mia bravura ho preso così la parola magica. Ci è voluto niente. E quindi mentre tornava, scena dalla montagna, tutto il percorso, un mese, un altro mese, tutto il tempo l'elefante pensava il suo viaggio, quanto era stato intelligente, coraggioso, determinata e tutto quanto. E quando arrivò finalmente dopo due mesi e mezzo, quando torno alla valata, gli animali vede l'elefante, 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 sta arrivando, l'elefante, l'elefante, l'elefante. La corso l'incontro. Elefante, elefante, hai la parola magica, hai la parola magica. L'elefante disse, aspettate amici, ho la parola magica, ma prima vi racconto come ho fatto. Allora l'elefante raccontò tutto il suo viaggio, è che è saluto sulla montagna, che è arrivato alla casù, e poi l'elefante, ma la parola, la parola, poi io bussai alla porta, la parola, la parola. Dell'elefante non si ricordava più la parola. E elefante, tu, tu, con tutta la tua intelligenza e bravura. E allora, e allora, un altro animale doveva andare, quindi ancora tenevano consiglio e tutti parlavano tra di loro, e allora alla fine il gheppardo. Il gheppardo, l'animale più veloce di tutti, perché già avevano dovuto aspettare due mesi in mezzo per l'elefante, quindi questa volta il gheppardo, aveva la parola magica il giorno dopo. Quindi tutti d'accordo. Sì, gheppardo, vai, 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 vai per la parola magica. E allora il gheppardo andò, e corse, 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 corse. E già in un giorno era arrivato sotto la montagna. E corse, 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 corse. E dopo il tramonto arriva, arrivo già dove stava la cascassupola della strega. Allora, il gheppardo bussò alla porta, toc 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 toc, e la strega aprì. Chi è? E il gheppardo era con la lingua di fuori, pisca! E sto che l elements di fornite si può! Si! AL better! Come si! Jasper ha sto chiedendo! E la parola, la parola, come si! Cosa! Cosa! E la parola? Ahhhh, la parola magica! Sì! Ah! Per l'уб matesico non ha fatto sì, sì, sì! Dammi la parola, sì, te lo do dovevo perché non ti ricorderai mai! La parola è I дней пров个ornthette La parola Cosa faccio? Torno indietro, dormo, torno, no, corro, corro, e corso, 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 e siccome era in discesa si metteva soltanto la notata, quindi corso, 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 e già prima dell'alba arrivò, lui tornò alla valata, prima dell'alba, tutti gli animali dormivano ancora, quindi Gepardo arrivò a vedere che tutti gli animali dormivano e quindi anche lui si dice, eh, 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 dormo, dormo un po'. E così Gepardo si addormentò. Dormì per un giorno, dormì per una notte, per due giorni, per una seconda notte, un terzo giorno, una terza notte, e la mattina del quarto giorno, finalmente Gepardo si svegliò e aprì gli occhi, tutti gli animali attorno a lui, Gepardo, 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 ti sei svegliato, ti sei svegliato, hai la parola magica, ah, parola magica, sì, sì, non sei mica andata alla strega, su, su, sulla montagna, chiede la parola magica, per l'alba magica. Gepardo, amici, non mi ricordo più niente. E così, dopo l'elefante, Gepardo, anche lui non era riuscito, e gli animali, eh, non sapevano più cosa fare, perché è un animale più intelligente, è un animale più veloce, e mo? E quindi parlavano, 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 e alla fine sentivano una voce, una voce piccolina, diceva, beh, amici, se nessuno vuole più andare, vado io. Chi aveva parlato? Si guardavano intorno, aveva parlato la scimmia, no, le scimmie no, aveva parlato la renna, no, la renna no, chi aveva parlato? Era una voce piccolina, beh, amici, sono qua, sono qua, e dove? E giù? E chi aveva parlato era una tattaruga. Eeeh, tattaruga, c'è l'elefante ci ha messo due mesi e mezzo, e tu quanto ci vuoi mettere? L'elefante due mesi e mezzo ha dimenticato la parola, e tu, 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 quanto ci vuoi mettere? Vuoi che ti ricordi la parola? E tattaruga disse, amici, tanto, se nessuno vuole andare, ci vado io. E vai tattaruga, vai. Così tattaruga molto lentamente si incamminò. E molto lentamente, dopo mesi, mesi, i mesi, e già quasi si era dimenticato per i quali si era incamminato, arrivò sotto la montagna. Ah sì, la montagna! Ah sì, la strega! Così inizio a salire, erano già passati sei mesi, quindi altri due mesi per salire sulla montagna. Quasi passati dieci mesi, cario finalmente alla casuppola. Tattaruga vede la casuppola, dice, ah, ah già alla casuppola! Ah sì, cos'è che devo fare? Alla strega! Ah sì! Tattaruga bussò alla porta, pum, 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 e la porta si avviene. Strega! Sono Tattaruga! Sì, è vero che sei Tattaruga! E... ehm... ehm... ho camminato, tanto! Tattaruga! Tattaruga, ma vieni giù dalla vanata degli animali? Sì, sì, vengono i miei amici perché io devo chiedere... ehm... cos'è che vuoi chiedere? La parola magica? Per l'aurolo magico? Sì, esatto! Allora te l'adoro perché non te la ricorderai mai! La parola è ISCALLA! Boom! Chiuse la porta. Tattaruga pensò... ISCALLA! Ma che bella... che bella parola! E così, da questa bella parola, Tattaruga si inventò una canzone. E quindi mentre scese la montagna, che ci metteva non due mesi, diciamo un mese e mezzo, scese la montagna, per tornare alla vanata degli animali era passato più o meno un anno e mezzo. In questo anno e mezzo, Tattaruga aveva fatto una nuova canzone. Perché la cantava tutto il tempo. ISCALLA! 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 ISCAL, ISCAL, ISCALLA! E dopo quasi due anni, gli animali vede arrivare Tattaruga. STA ARRIVANDO TATTARUGA! STA ARRIVANDO TATTARUGA! Non ci posso credere! Tattaruga, Tattaruga! E andavano in conto a Tattaruga. Allora chiesero... Tattaruga, Tattaruga, hai la parola magica! Amici, sono felici di vedervi! Parola magica? Perché? Ma sì, Tattaruga, per l'albero magico che abbiamo nella nostra valata, ti ricordi? Eh no? Albero magico? Sì, Tattaruga, è per quello che tu sei andata alla strega. Hai incontrato alla strega? Strega? Sì, sulla montagna sacra che vive nella casuppola. Ma l'hai visto? Dove sei andato tutto questo tempo? E Tattaruga non si ricordava niente. E Tattaruga! E Tattaruga disse, ma amici, amici, è vero che non mi ricordo molto di questo viaggio. Però, oh, volete sentire la mia nuova canzone che ho fatto? Ma Tattaruga, la nuova canzone, noi volevamo la parola magica, per l'albero magico. E tu ci vieni con una nuova canzone. No, non la vogliamo! E Tattaruga disse, beh, ve la canto lo stesso. E così Tattaruga iniziava a cantare. Esca la, esca la, esca, esca, esca la. E, uno ad uno, gli frutti dell'albero magico iniziavano a cadere. E tutti gli animali cantavano insieme con Tattaruga, vedendo l'effetto dell'albero. e finalmente potevano fare una grande festa con tutti questi frutti più buoni mai assaggiati. Grazie. Applaudissements. Grazie.